Buonasera ragazzi, buonasera, se si può dire, a Don Franco Buonasera a te Mi sono agitato, è inutile, è inutile Oramai un figlio che si è fatto come un babbuè L'annata è così, Don Franco No, non va bene Non va bene ragazzi Non si era mai verificato che una squadra campione d'Italia Faccia brutto la fine Faceva una fine E che sta mané I calciatori sono finiti gli alibi I cagliassi allenatori, Cassia, Mazzari Nel tempo fa che è nata disturbato Un barbagiano mi si è disturbato E che sta qua Però nessuno l'ha detto Tutti quando fanno i fatti Allora, vanno i gol e se ne vanno Dicono, ma te ne prego Ma c'è fatica a credere Ma c'è fatica a credere Ma veramente stiamo in questa situazione Cioè, vengo a Napoli E dico, ma è possibile? O è un suono? E allora è possibile Guardi, ieri, ieri Stiamo a rubare una partita Cioè, ieri un Napoli non meritava di vincere Cioè, poi è successo il clamoroso Perché in Serie A Pure squadra che si andrà a salvare Non li prendono il secondo Sai, non sta proprio Cioè, la cosa che per esempio Tu rimani a Cussi perché Comunque tu Solo a noi Può succedere fatte questo C'è chi ci ha segnato in Ecuador Che sta evitando Non parlare a questo infortunato Ci ha messo rabbia C'è, capito? Ma no, si è trovato che la palla Che nessuno è intervenuto Ma io ve lo dico sempre Il primo calciatore Che si deve cambiare subito Noi Anche ora stasera Rimane al mattino Che noi non teniamo il bustiere Perché tu dici Ma il bustiere che vuole Il bustiere voglia Perché il bustiere è l'unico Che vuole Tutti i vinti di colore Legge l'azione Vero pallone E manda le trenta seconda fino In legge Viste le cacchiette di portiere Le scelte Fuori all'aria di colore Tu Chi lo potrebbe fare I pastrici Mi hai visto? Invece non rimane là Imbalati Yang Yang E capite? Poi ci troviamo con questo Gesù Ci troviamo la colpa Perché principalmente Alla fine è stato lui Perché La partita Ma era fornuta Se non fa che l'errore Noi per esempio La partita L'ammaizzata Pure di ripetere la partita Cioè Cioè Noi stiamo portando la casa Diciamo la verità Cioè Non moriamo Però Noi non ci erano rubato niente E' stato l'errore E loro hanno segnato Benissimo Andava bene così Ma noi facciamo cosa Cioè Cosa stravedere Facciamo cosa Però non mi avevi giù Gesù No Perché Gesù Era la quinta scelta Del Napoli Ma sì Gesù Ma che puliamo su Gesù Ma che puliamo su Gesù Ma che Gesù Non è stai qua proprio In sera La colpa non è sua Che stai qua In sera Ma ora che Gesù Sta giocando Non è stai qua Ma quella che la palla Ralla una randellata E' stato E' finita la partita 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 Che te la randellata Che dormono con i bimbi Ma che cosa Tu stai già andando tutto Gli esternamenti Che non paga la palla Che loro fa In sera Perché tu non è un po' Pensare male Non vogliamo pensare male Ma che cosa Ma se metto La stessa azione Il calcio Perché hanno fatto Quanto i salvatori Capolitano Ieri Era rimane E' finita E' finita la partita Fu tutti E' la stessa palla E' la stessa palla di offese e cose c'è qui, allora cominciano a portare, tre quattro difensori, tre quattro compresi pure il riservo, via da Napoli, te c'entrò da una pista, via da Napoli, si risolvono il problema che ha trovato un re, recupera la forma, ti ha trovato un re, ti puoi trovare una varia scala, sempre si va boffa, perché fino al mondo va boffa, non ci capito, perché? e poi ci vuole una rivoluzione totale, caro barbapapà, ti mettono in capa che ci vuole una rivoluzione totale, perché questi calciatori ormai non faranno più bene, ma ora, fino a finire la campionata, tu forte che arrivi in conferenza lì, te lo dico da adesso perché noi speriamo, la matematica, ma quella matematica andate trovando la matematica, una matematica, la matematica, non ci speriamo, 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 ma ora, come ne mettiamo qui? la matematica, e la matematica, però chi li stanno a battutti e i pali e vedi che la grindi, che la stanzione, che la cosa, non è possibile, questa è natura, tra una volta lì, tu vedi una partita che stiamo vincendo, io non vedo la squadra che può leggere una partita, tutte le raggiature, le sanguine dalle volte, che viene sempre lì, Vabbè ma c'è uno pacotto, una valigia, tutto quanto per me, tutto è compostato, io sono compitato, io tre. Io Presidente, se no. Poi sono tutti da cambiare, però io aspetto sempre all'acquisto dell'anno e del secolo, la cessione del Napoli del nostro Presidente. Aspetta con ansia che tu rimani di sveglia e dici ho venduto il Napoli, ma non mi interessa chi soccati a miseria B, miseria C, fallimmi, l'importante è che te nemmai perché è una persona insopportabile, portabile in tutte le maniere, vedete, chi lo muove in a chelpe un bacetto, un sorriso. Non sai perché i napoletani sono venditi, non sono mai contenti. Non sono mai contenti, hai visto perché è morto? Non è morto, non è morto, non è morto. Oh, matrice, cocco, notizie, Dendonger. Tentò che erano rette d'occovalore e dicendo che non è un mestiere suo, secondo me l'hanno prenduto il mio salario, c'è un calciatore, ma non è un mestiere suo, proprio evidente non si è visto proprio, visto e così hanno fatto una grande campagna di rinforzamento. Quali sono stati i quadri che hanno guadagliato il Napoli che hanno accattato a cernato? Nessuno. O centrale, chi è stato? O posto e chi? Nessuno. Gioca di Gesù che era uno al vincolato, il gioco a titolare. Allora, l'ha disturbato, è successo, è successo tutto quello che era successo a me, non c'è niente da fare. Per me chiedete eccessione, però in diretta la da chiedere, tutto quanto, chiedete scusa voi a lui, dovete chiedere scusa. A Giappone, a Giappone. A noi, dovete chiedere scusa a voi, a lui, nessuna frase, non è spogliato a te, se ne hanno detto qua, via, c'è, finita la partita, arrivederci e grazie, senza io, stai sbattendo le mani, Cominciamo in settimana, dobbiamo incominciare dal novantasesimo, rammoggiato il gol, è la partita della partita e stiamo sempre seri, io non ce la faccio più, io non ce la faccio più, abbiamo toccato tutti i tasti, sono tutti scordati, nessuno mi dice che accorde una cosa. Poi, ma se ne vanno là, tutto a posto, non ce la faccio più, la russa, la cagnata roma, non è un'altra, c'è la roma gioca bene, ma può pure perdere la partita, ma io vedo che lì stanno trasformando. Ehi, perché, ma tu vieni stagliato, io sono cagnata roma, non è possibile, non è possibile, da loro, i punti, chi so, si stavano distruppati fra calciatori, presidente, mi chiedo scusa, perché io non lo so, ma questi cavo premi scudetti l'hanno avuto, mi faccio una domanda, l'hanno avuto premi scudetti, che non ci sono scudetti, non so, guarda, giugnato, non ci sa, si può sapere questo fatto, se questi qua, il premio che noi non ce l'hanno, l'hanno avuto? Io facessi affaticare però. Averbe, io facessi affaticare, ma due calciatori si fai promessa, e niente a fondo. Eh, sì. Questa è una cosa che uno ha da sapere. Premi partiti, se non lo vuole, chi si cade a fondo, dice niente per me, niente per te. Questo è inutile che non mi vuole ammettere, se chi si cade per me, non so, non so chi parla, ma hanno avuto premio. Ma tu senti lo spallettone? O mi stai mettendo ancora il prete di ponte? Bungata, 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 bungata. E stai disturbato, che hai ricevuto, ciò che mi s'ha aiutato, non lo rimane più. Non è vero. Ragazzi, comunque la situazione è molto grave, perché veramente i quaduri sono quelli lì, che hanno messo le scudette. E quelli lì stanno giocando, quelli lì stanno giocando, erano i quaduri e quelli lì a Cagliari, quella era squadra, quella era formazione. Abbiamo fatto una grande figura, pure ieri. Sempre forza la maglia del Napoli. Sempre forza la maglia del Napoli. Sempre forza la maglia del Napoli. E niente più, perché ieri fai il calciatore mi ha mai affezionato. Uno solo dovuto mi ha affezionato. Non c'è più. Il calcio è finito. Ciao. 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 Ciao.